Abbiamo raccolto come amministrazione Alessandrini questa opportunità che il governo Renzi ci ha dato. Il governo Renzi ha messo a disposizione 150 milioni di euro per tutta l'Italia, chiaramente, e invita i cittadini a mandare delle mail nel sito bellezzachiocciolagoverno.it proprio per segnalare luoghi da recuperare o strutture da restaurare. Siccome è necessario avere dei progetti, come amministrazione ci siamo interessati di questa opportunità e abbiamo individuato due elementi importanti della nostra città, identitari per la città di Pescara, che sono il restauro della stele danunziana e la manutenzione straordinaria, quindi un progetto di recupero anche del Museo Basilio Cascella, sito in Pescara. Quindi non resta che invitare la cittadinanza ad aderire alla campagna? Sì, chiediamo proprio l'aiuto della stampa perché tutti i cittadini sensibili al patrimonio artistico della città mandino delle mail indicando la stele danunziana e il Museo Cascella o l'uno o l'altro o ambe due con più mail a bellezzachiocciolagoverno.it